Siamo qui per presentare questa applicazione Noverca Plus, lanciata dall'operatore mobile italiano Noverca Italia. L'applicazione, come dice anche la parola Noverca, nasce dalla continua novità e ricerca che ha sempre distinto l'azienda, che dal 1992 ormai porta sul mercato tramite la sua capogruppo innovazioni che permettono di migliorare e ad andare a portare vantaggi alla vita di tutti quanti. L'applicazione è una vera e propria innovazione nel settore, consente di virtualizzare la propria SIM card e quindi un numero mobile italiano sui dispositivi iOS e Android. Permette di chiamare a costi molto ridotti tutti quanti i numeri mobili italiani e soprattutto di chiamare a costi ridotti anche molte delle destinazioni internazionali. Al momento dell'accesso nell'applicazione sarà possibile caricare e visualizzare la propria rubrica contatti e una delle prime funzionalità della produzione è visualizzare tutti gli operatori di appartenenza dei propri numeri in rubrica, ovviamente operatori italiani. Ad oggi permette quindi di trasformare il proprio tablet, il proprio iPhone o un terminale Android in un dual SIM. Permette di abbattere completamente tutti quanti i costi di roaming quando si viaggia all'estero perché tramite l'app si può chiamare o ricevere le chiamate come se stessimo in Italia. Sempre dall'applicazione può essere completata la procedura di caricamento di tutta la documentazione necessaria. Tramite questo pulsante potrete richiedere un nuovo numero. Accedendo a questa pagina, tramite pochi passi e veloci, inserendo i vostri campi anagrafici, le vostre informazioni, potrete istantaneamente richiedere il numero in overca. L'applicazione è disponibile gratuitamente sui vari store, quindi Apple Store e Google Play, può essere scaricata e direttamente dall'applicazione può essere richiesto un numero in overca. In questa maniera la comunicazione con il proprio paese sarà sempre a portata di mano.